Bella a tutti raga, si stava parlando ultimamente di come raggiungere lo stato di engraving, ovvero di 3 engraving a livello 3 o 4 engraving a livello 3 e siccome non mi sembra molto chiaro per molte persone mi piacerebbe spiegarvelo in questo video, ok? Non voglio farvi troppo casino in testa ma cercherò di essere il più chiaro possibile Allora, la premessa è che non avete bisogno di avere i libri al 12 e niente di tutto questo, bisogna solo giocarsela bene, d'accordo? Adesso, lasciando stare che classe siete, lasciando stare che engraving vi servono, questo discorso vale per qualsiasi classe, per qualsiasi engraving, non cambia niente Ora, prima cosa, dovreste sapere, ormai state tutti raggiungendo 1370 o più dovreste sapere che Argos droppa solamente accessori che hanno il vostro engraving di classe, uno dei due chiaramente solo uno è quello che vi interessa, o tutte e due in casi specifici ma comunque, detto questo, a noi non serve a niente avere un libro equipaggiato tra gli engraving con il nostro engraving di classe perché ce l'avranno tutti gli accessori che droppate da Argos non importa che item level siate, che siate 1370, 1385, 1400, 1415 non ha alcuna importanza tutti gli accessori che droppa Argos hanno il vostro engraving di classe, d'accordo? ora, come facciamo a raggiungere, partiamo dalla base i nostri primi tre engraving a livello 3 ovviamente con il nostro engraving di classe per primo come priorità, d'accordo? ora, il nostro engraving di classe possiamo farlo avendo tutti gli accessori di Argos con il nostro engraving di classe 3 ad esempio io voglio Loyal Companion, che è il mio engraving di classe a livello 3 quindi mi servono 15 punti come ottengo 15 punti? avendo 3 punti su ogni singolo accessorio quindi avrò 3 punti sulla collana 3 sugli orecchini 3 sugli orecchini 3 sull'anello 3 sull'anello e così, solo con gli accessori di Argos io ho fatto il mio engraving di classe 3 senza aver bisogno della stone e senza aver bisogno dei libri ora, chiaramente insieme al mio engraving di classe io voglio avere la mia statistica quindi la mia priorità cosa sarà? trovare il mio bonus effect la mia statistica principale insieme alle engraving di classe quindi nel mio caso Swiftness con Loyal Companion ma magari nel caso del Berserker sarà Mayan più Crit o cose del genere d'accordo? e una volta che l'avete fatto avete la vostra stat principale o le vostre stat principali perfettamente bilanciate e con il vostro engraving di classe 3 e abbiamo un engraving di classe 3 solamente con gli accessori gli altri due sono molto facili abbiamo bisogno di avere dei libri cioè gli engraving fatti con i libri equipaggiati a 9 punti quindi con i libri viola che ormai sinceramente con tutti gli eventi del Grand Prix che abbiamo fatto dovreste avere tutti e quindi qua semplicemente abbiamo i nostri engravings di cui abbiamo bisogno li equipaggiamo nel mio caso io voglio equipaggiare Hitmaster e Ridecaptain e mi danno 9 punti giusto? come faccio ad arrivare a 15 punti per fare il livello 3 entrambi? mi basterà un Ability Stone con quei due engraving più 6 più 6 detto questo riassumendo quindi sui vostri accessori la vostra statistica principale o le vostre statistiche principali più il vostro engraving di classe magari siete un Bard e volete Desperate Salvation avrete semplicemente Desperate Salvation più 3 su ogni singolo accessorio e probabilmente avrete Expert Awakening o EV Armor o quello che è sui libri e sulla Stone in questo modo avete fatto i vostri 3 engraving a livello 3 in modo semplicissimo non importa quali engraving vi servono questo discorso vale per tutti e il costo è relativamente basso quando si complica la nostra situazione la nostra situazione si complica quando noi vogliamo avere 4 engraving al 3 e non solo in realtà ricordatevi sempre di stare attenti che noi vogliamo i negativi tutti sotto a livello 1 quindi quando voi comprate gli accessori fatelo soprattutto in base all'Ability Stone o fate il contrario fate le Ability Stone in rapporto ai vostri accessori non dovete mai raggiungere engraving negativi perché sono veramente pesanti d'accordo poi chiaramente se state mirando a fare 4 engraving a livello 3 magari un negativo potete anche permettervelo ma se riuscite a evitarlo meglio così passiamo quindi a dire come raggiungiamo a fare 4 engraving a livello 3 il discorso è sempre lo stesso abbiamo i nostri engraving equipaggiati con i libri pure Ability Stone che fanno 2 e l'unica differenza è che insieme al nostro engraving di classe sugli accessori vogliamo un nostro quarto engraving quindi ad esempio se io volessi migliorare la mia build vorrei avere grudge come quarto engraving vorrei avere Lawyer Companion più grudge su ogni singolo accessorio più la statistica che mi serve ovviamente lì il costo sale ma se pensate che è una cosa che vi durerà per tantissimo perché comunque avere 4 engraving in livello 3 sarà un'ottima cosa per tantissimo tempo è un ottimo investimento anche perché ogni giorno che passa i prezzi bene o male calano rispetto a quando sono usciti al day 1 sicuramente ok quindi fare i 4 engraving a livello 3 è fattibile con gli accessori con i vostri engraving di classe più l'engraving in questione che vi manca con gli stessi engraving sui libri e l'Ability Stone l'Ability Stone ricordo che basta essere più 6 più 6 con un negativo abbastanza basso perché tanto i libri vi danno già 9 punti a testa ora come dicevo prima bisogna giocarcela un po' di testa però se voi mirate a fare 4 engraving al 3 raga non cercate sugli accessori l'engraving più costosa della vostra classe faccio un esempio se io volessi davvero aggiungere grudge nei miei engraving in questo momento non lo cercherai mai sugli accessori perché cercare i miei accessori con la statistica giusta dai miei engraving di classe più grudge o più kimblunt o più ride captain o più qualsiasi cosa sia mi costerebbe tantissimo quindi quello che voglio fare è mettere i miei due engraving più costosi non sugli accessori ma sui libri e sull'Ability Stone quindi magari nel mio caso vorrei mettere Heatmaster e grudge sui miei libri e la mia Ability Stone quindi mettere l'Ability Stone con Heatmaster e grudge e cercare invece ride captain più il mio engraving di classe sui miei accessori ovviamente sempre cercando le statistiche che servono a me spenderò molto meno perché comunque fare appunto fare libri a 9 adesso a me qua mancano due di grudge ma è perché non lo uso ma ce li ho devo solo leggerli non è un problema però sarebbe molto molto semplice per me cercare una pietra che mi dia grudge Heatmaster ovviamente la spesa ci sarà la spesa sarà un po' minima ma non è così tanto se pensate che dopo siete a posto per tantissimo tempo stiamo parlando di mesi ragazzi siete a posto per mesi d'accordo e quindi quando cerco di fare 4 engraving al 3 voglio mettere i più costosi nei libri quindi quelli equipaggiabili e nell'Ability Stone mentre sugli accessori avrò il mio engraving di classe al 100% perché quelli di Argos sappiamo che ce li danno e e avrò uno dei meno costosi degli altri engraving che mi manca in questo modo raggiungo il 4 o 3 perché non l'ho ancora fatto perché sono povero ma quello è un altro discorso d'accordo e questo bene o male è tutto quello che volevo dirvi sul modo più semplice che c'è adesso di raggiungere 3 per 3 engraving o 4 per 3 engraving quindi quando leggete 4 per 3 sono 4 engraving a livello 3 3 per 3 sono 3 engraving a livello 3 questo è il modo più semplice e anche più economico di fare questa cosa ovviamente se arrivate ad avere dei libri di engraving equipaggiabili avendo letto 20 libri leggendari e quindi vi danno 12 punti potete giocare molto di più su questi numeri e farli in modo diverso ma questo è un discorso che faremo quando uscirà Valtan con i nuovi accessori magari non sapremo ancora se Valtan ci darà accessori solo di classe come fa Argos adesso da noi che poi in realtà prochiudo parentesi solo da noi Argos ci dà sempre solo engraving di classe perché in Corea e in Russia non è così ci dà anche engraving totalmente separati dalla nostra classe e nulla spero di non aver fatto troppo casino spero di esservi stato utile se volete più contenuti sullo Stark potete iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video mettete mi piace al video io vi ringrazio a tutti per le iscrizioni per i commenti se avete domande chiedete pure nei commenti sono più che felice di aiutarvi noi ci vediamo al prossimo video ciao su ciao